Tra l'altro occhio che forse Shelly la possiamo anche recuperare... Ma... C'è un altro RxR amico? Ma bella raga, ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovissimo video qua sul mio canale. Quest'oggi siamo tornati con un nuovo episodio della... Sopravvivenza scura. Ma come funziona questa serie? Regola numero uno, posso giocare solo alla sopravvivenza solo e devo per forza arrivare primo. Non arrivando primo, sicuramente sarò eliminato, di conseguenza quel brawler non potrà più essere utilizzato. Regola numero due, non posso shoppare, tranne quando farò 100 coppe col brawler. Ogni 100 coppe con qualunque brawler uguale una meca cassa. Regola numero tre, dal momento che tutti i brawler che possiedo sono eliminati, ho perso. Per il momento possiedo Shelly, Nita, il primo, Bull, Frank, Squeak, Penny, Jesse, Iris, Jackie... Ed eliminati, Bombardino, Rosa, Stecca, Colt, Pocho, Brock. E quindi regolamentino visto, tra l'altro quel Brock che abbiamo perso la scorsa volta... Piccolo ripassino, lo facciamo. L'abbiamo preso dal cammino dei trofei e alla prima partita l'abbiamo perso. Scam veramente incredibile, ma ad ogni modo, oggi è un altro giorno, procediamo, speriamo di non scammare possibilmente... Che mappa abbiamo in showdown in fondo al canyon. E a noi per assurdo può star bene. Vediamo un po' in base alle missioni, abbiamo Jesse, che va bene. Anche quella giornaliera dobbiamo raccogliere i cubi di energia, quindi non male. Per quel che riguarda lo shop, niente, abbiamo solamente un po' di oro oggi e niente. Dai, partiamo subito, facciamo subito queste missioni intanto e poi vediamo. Per i cubi di energia prenderne 15 direi che è molto facile. Con Jesse dobbiamo fare 60.000 danni, mi sembra di ricordare. E anche quelli in realtà dovrebbero essere molto heads, dai. Massimo tre partite, credo che riusciamo a fare tutto. Tra l'altro mi sa che in mezzo è pieno zeppo di power up, quindi aspetta un attimo solo. E qua, aspetta. Molto interessante la questione. Potremmo fare di questo. Andiamo al dosso al carletto e lo distruggiamo così. Poi, vabbè, arrivati a sto punto. E che fai? Non prendi le cassette in mezzo, ma per forza che le prendi. Il protocollo si schiavissi. Ok, preso tutto. Ce n'è... Aspetta, aspetta, aspetta. Posso anche farti di questo. Vai torrettino, vai a fare il tuo. Chi il fatto è daie e anche la nita ci va giù così daie. Molto bene. Ma sapete che in realtà abbiamo fatto la missione dei power up in una partita. E questa ce la siamo tolta, heads. Per quel che riguarda l'ultimo, chi è il Beryl di prima? Può essere? Beryl, dove stai? Fratelli, dove campri? E' qua sotto, sicuro. Non è qua? E dove stavo? Raga, ma dove è andato? Ah, ma... Ma però, ma mannaggia a te. Ma che stavi a fare qua? E niente. Bella Pedro Errigue. Nome molto content. Quindi, missione dei power up fatti. Danni siamo ancora un po' indietro, quindi procediamo. E dunque, eccoci qua. Prendiamo intanto la cassettina. Oggi speriamo comunque di non scammare. Perché ogni episodio sto scammando almeno un brawler. Quindi, insomma, vorrei interrompere per un attimo questa sorta di ruota perenne che gira e gira e gira. Tanto aspetta che qua abbiamo un carlettino. I carlettini sono un po' pericolosi. Ma direi che in questo caso, pericoloso, non è lui. Bene, andiamo a prendere i power up in mezzo. Poi qua ti posso buttare una torretta. Piccola Jackie. Sì, bro. Distruggi la torretta. Sì, vabbè, la torrettina. Fino a quando nel cispuglio ci sta che sia così. Ma direi che non ci sono problemi a riguardo. Poi abbiamo un bel brocchettignoz che... Oddio, mi ha fatto un po' male. Aspetta un attimo solo. Ricopriamo un attimo la life. Tanto qua siamo ancora in botto lobby, quindi anche se gli sto davanti non mi spara. Abbiamo infine la scellina che in realtà... Dai e scelli, vi è. C'è sì bella sta ulti, molto golosa. E baci a morire esattamente adesso. Grazie mille. I danni credo che ancora non l'abbiamo fatti. Ma secondo me quella prossima si fa. Ah, c'è anche la missione del gioca ancora. Quindi gioca ancora. Ma per forza. E dunque eccoci qua. Tra l'altro non mi sono dimenticato che ho le casse ancora del vecchio pass da aprire. Mi sa che possiamo aprirle la prossima volta. Sì, mi sembra un'idea molto interessante questa. Anche perché qualche brawler ancora un po' bassettino l'abbiamo. Quindi non ho fretta di trovarne altre. E quindi mi va bene fare così. Oh, c'è... Wop, 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 statene molto calmo. Amico mio, Uzban. Ma che nomi hanno questi oggi? Ma che Uzban Katil. Nomi molto content. Questi amici bot. Comunque arrivati a questo punto. Prendiamo le casse in mezzo. E poi direi che è meglio andare a fare le kill. Che vorrei chiudere questi danni. Ecco, vabbè. Pocho mi regala 5.000. Molto buono. 5.000 ragazzi. Un L in più. Ogni tanto ci sta. Così, a caso. Dove stanno gli altri? Guarda che fastidio. Di bot devono camperare. Ma dimmi teo. Effettivamente i bot sotto questo aspetto sono fatti anche bene. Camperare qua alla fine è la prassi del gioco. Soprattutto in sta modalità. Anzi, in sta modalità. Comunque la rosa ci va giù. Dai, manca l'ultimo. Amico mio, non ti suicidare, per favore. Aspetta, mi è sembrato averlo visto qua in basso. No, visto male. Ah, eccolo. 6.200. Sai che io potrei provare a punzecchiarlo senza finirlo per fare qualche altro danno, no? Quindi un'altra bottarella. Aspettiamo. Ok, ora che è full dai altri due colpettini. Ora che è nuovamente full altri due colpettini, direi che la prossima lo possiamo buttare giù. Così almeno andiamo a botta sicura. Beh, lui ha buttato l'orsetto, ma direi che non ci sono problemi a riguardo. Bella bro, terevaccio giù. Perfetto. Se non abbiamo fatto la missione adesso, c'è qualcosa che non va. E l'abbiamo fatta bene. Quindi Jessie per ora è andata, anche se volendo possiamo farla anche a 90 coppe. Potremmo chiuderla. Due soglie del pass fatte, dai. Jack, Iris e Penny. Vediamo se con loro devo fare delle missioni. Non ne ho, dai, riga. Allora ragazzi, posso fare cinque vittorie con Shelly? Che sì, ce l'ho a 102 coppe, ma lei non l'ho ancora scammata. Se no, sapete cosa posso fare? Stavo pensando, no? Che potremmo provare a fare un secondo posto, giusto per arrotondare anche lei, no? Così almeno è tutto in pari come giusto che sia. Sarebbe un piccolo strappo alla regola, ma insomma, no? Cioè direi che comunque è contestualizzato questo strappo alla regola. È che non vorrei poi scammare andando avanti, giustamente vedendo Shelly, che non ha un numero tondo, magari. Boh, non mi ricordo bene, anche se dovrei ricordarmi. Qua sopra c'è uno stick a camperato e non so che voglia fare, ma comunque. Fratelli, non ha... Oh, ma no, per un attimo non stavo tappando. Qua ragazzi non siamo più in bot lobby, quindi la questione inizia a farsi un po' più interessante. Certo, il livello è ancora molto basso, però attenzione. Tra l'altro, occhio che forse Shelly la possiamo anche recuperare. Ma? Ma, 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 ma. C'è un altro RXR amico? Ma in che senso, fratelli? E niente. Mi sa che è un altro collega che sta facendo la supervenza oscura. Può essere mai? Non ci voglio credere. No, vabbè, aiuto. Questa cosa effettivamente è molto content. Guarda, facciamo una cosa. Viste che abbiamo beccato un altro che sta facendo, credo, la challenge. Arriviamo secondi. Mi sembra giusto arrivare secondo contro di lui. Anche perché sta usando pocio, quindi, poveraccio. E lui fa un po' il cagaga. Non sa se lui sa che sono il vero. Oppure, aspetta amico mio, non morirci. Io sono un po' preoccupato. Sia per lui sia per l'altro, che non sono... Ok, vai, mi può ammazzare. Voglio anche guardare il suo profilo. Questa comunque, ripeto, è una sconfitta, giusto per arrotondare. Avevamo un altro della sovrenza oscura, quindi ci stava a farlo. Piccolo strappo alla regola per arrotondare tutto. Prima e ultima volta, ovviamente. Andiamo a vedere al volo il suo profilo. Che roba, ragazzi. Appare che sta a 146, quindi ha un po' scammato. Ma non ce n'è uno pari qua. Oh bro, ma hai scammato? Non so che è combinato. Mi sa che o ha scammato oppure non sta facendo la sovrenza oscura. No, anche perché gioca anche in duo. Vabbè, comunque, procediamo, dai. Andiamo avanti con Shelly, cerchiamo di fare queste altre quattro win. Poi io se oggi la scammo, amen, raga. No, però non ho guardato se potevo potenziarla, mannaggia. Poi da che c'ho nel primo fermo? Sì, bro, vieccia. Beh, comunque l'è il primo. Non mi... Madonna che... Aiuto. Per un attimo l'ho vista un po' così. Comunque direi di andare a prendere i power-upettini. Che qua ce ne sono un bel po'. Dobbiamo anche stare attenti che... Non credo che ci sia gente camperata, ma... Occhiarellino, ragazzi. Ma qua comunque con tutti i power-up che ci prendiamo direi che non dovrebbero esserci pericoli. A parte che sono morti tutti. Abbiamo una rosa che intanto tu potresti per grande assurdità... Bro, e muori, ci vuole chi sei, The God. E niente, aspetta. Forse è meglio andare a prendere l'altro. Oddio, la rosa non dà problemi. Possiamo farmare delle ulti molto edge con lei. Dove stai, fratelli? C'ho una cacarella, raga. Perché l'altro è un bombardino che... Detto fra noi e noi, se io lo prendo da qua... Olè. Sì, bro, vieccia. E dai. Adesso direi che con la rosa dovremmo andare a botta sicura. Becati sta a bottazze, ok. Primo posto, meno male. Ancora non si scamma, ragazzi. Quindi andiamo a vedere subito se sta... No, non la posso potenziare, perfetto. Ce l'abbiamo al... Aspetta pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe O prenderle adesso non cambia nulla no Ma più che altro volevo vedere se c'erano i potenziamenti Solo a 50 potenziamenti Li diamo a Shelly così possiamo farla a livello 6 Mi piace e basta per il resto abbiamo preso tutto Quindi Shelly Nakara vai a livello 6 Dai rega dobbiamo portarla bella su È una dei brawler migliori in showdown Quindi conviene potenziarla dove possiamo Quindi procediamo con la prossima partita Io comunque direi che per questo episodio Possiamo fare la missione con Shelly Quindi le ultime 3 win e poi siamo a posto Quindi boostiamoci con i power up come sempre Attenzione al Brock che potrebbe Darci un po' di noia amico mio devi stare Molto calmo tu lo sai ma proprio Calmo calmo devi stare guarda prendo intanto Il power up poi me do assolutamente Per poi andare verso la Jess eh sì solo che sta Jess Niente facciamo stare va qual kit per la ulti ce l'ha Data ma nulla di che mi conviene stare un po' Campericchiato e aspettare che qualcuno mi venga addosso Se vogliamo andare a botta sicura ragazzi Con Shelly è questa la via migliore infatti Qua facciamo una kill molto ed sulla Jess Bene sì 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 ottima idea arriva anche una Bella rosettina che è messa Abbastanza bene Madonna mi ha distrutto fratelli però almeno ho preso la ulti Quindi quindi aiaiai ma di No ragazzi no ragazzi vedo male oddio State calmo Brock Allora con estrema calma eh Ritorniamo nel cespuglietto Forse la rosa usa ok Qua potremmo usciarla in un qualche modo forse Occhio che c'è il Brock là sopra amica mia Ah no in realtà cambiato cespuglio Regà posso dire che sta situazione non mi piace È una situazione un pochettino Sbocco per quel che mi riguarda Dai rosa dammi una mano contro sto Brock per favore Mannaggia che male che fa Arriverà la scammata adesso No ma non credo dai citta Aspetta qua se riusciamo a fare il giro è buono Dai è bellissimo Ok direi che siamo a cavallo Ulti infinite qua Madore che ha 941 di vita L'ho anche un po' rischiata eh Mannaggia i vesci procediamo va Voi non avete idea quanto io stia ansiando in ste partite Ma comunque allora power up ettino per noi Poi qua c'è un bombardino che forse forse Riusciamo a prendere molto heads Dai brother io ho pure preso il power up Molto buono Dobbiamo boostarci quei power up Ne ho bisogno Solo che giustamente ci sta un Eve Che vabbè non è un problema Infatti lui se ne va Grazie mille per la cassettina E direi che dovremmo prendere anche le altre due Senza problemi Bella bro Dai Goloso qua 8 power up Questa è vinta per forza L'ho detto per forza Petta 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 Che qua a sinistra stanno accadendo robe C'è anche una rosa messa un po' maluccio Dai fratelli Ma dai quei due timano ma veramente Ma che stai a dire Cosa sto guardando Mannaggia ma vacci a morire Va piccola rosa Beh il pocio credo che non sia un problema Infatti lo puscio tranquillamente Anche se prende la ulti Credo che non c'è pericolo Anche perché adesso dove vai amico mio Direi che per te la situazione è un pochettino critica Bella brother Poi per chiudere abbiamo nel primo e una rosa Ma credo che non avrò problemi Biace bro Dai Solo nel primo Do scappi fratelli Biace Ok Manca solo l'ultima partita Ti prego Raxor Non scammare sul finale please E dunque Allora cassettina per partire Poi qua ne abbiamo altre due Che sono molto content E per ora direi che ci siamo Poi Occhio al Beryl Che potrebbe darci un po' di noia E qua il centro È abbastanza goloso Però Power up No forse lo riusciamo a prendere Intanto nel primo lo butto giù Occhio che Se Beryl prende la ulti Meno male ragazzi Quella ho leggermente rischiata Ah niente Ora di nuovo Sto qua nel cespuglio Aspetto che arrivi qualcuno E lo distruggo così Proprio facile facile Ok abbiamo gli ultimi due qua sotto Attenzione sono due rosa E occhiarello Beh in realtà Sono entrambe messe Un po' maluccio Dai Infine abbiamo la seconda Beh ho molti più power up Credo che non ci sarà pericolo Anche perché Basta prenderla ulti E dai Meno male ragazzi Non l'abbiamo scammato oggi Addirittura Un record 100 Quante sono? 150 coppe Dai Beh episodio devo dire Ricco di content Mi raccomando Se il video vi fosse piaciuto Un bel like Iscrizione Con campanellina Tattica tattica Noi come sempre Ci picchiamo alla prossima Con un nuovo video Bellissima